Ciao, benvenuta nel mio salone di bellezza. Tu hai preso un appuntamento per farti truccare, vero? Mi ricordo di te. Vuoi un make up a tema Halloween, giusto? Vuoi diventare una strega? Sei proprio andata sul classico, benissimo. Io in realtà qua nella mia postazione ho già tutti i prodotti necessari per farti questo make up, quindi se anche tu sei pronta, iniziamo. Ok, accomodati pure. Allora, per prima cosa vedo che i capelli già fatti. Ah, sei stata dal parrucchiere? Beh, si vede. Allora io direi di tirarli indietro con delle mollettine, in modo tale che non vada a sporgarteli poi col trucco. Ok. Allora. Ci siamo. Adesso l'altra. Ok. Fatto. Allora, adesso ti vado ad esaminare velocemente la pelle e poi procediamo col trucco. bravissima, sei venuta già struccata. Ok, ok, ok. Devo dire che hai una pelle veramente stupenda. quasi mi dispiace coprirla. Allora, sei pronta? Lo sai vero che ti andrò a dipingere la pelle di colore verde? Eh, vuoi essere una strega o no? Ok. Allora, pensavo di prendere questo fondotinta ad alta coprenza. ok. Sì, mi sembra proprio quella adatta a te. Sì. Sì. e lo vado a mescolare con un acrilico per pittura di colore verde. che ne pensi? Dai, lo facciamo. Allora, allora, allora. lo metto un pochino qua dentro. Ok. Ti vedo un po' preoccupata. stai tranquilla, non succede niente. Non ti provocherà alcuna irritazione. stai tranquilla, non ti provocherà alcuna irritazione. voilà. che ne pensi? Perfetto. Ok. Allora, procedo eh. ok. 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 Allora. ok. Allora. ok. Allora. ok. Allora. te lo stendo anche un pochino lungo il collo anche sulle orecchie non tralasciamo alcun dettaglio che bel viso verde ok perfetto direi e adesso vado a prendere il tubetto di prima l'acrilico verde e ti vado a fare un po' di contouring non lo mescolo col fondotinta così rimane un pochino più scuro e ti va a dare un effetto di tridimensionalità al trucco d'accordo? ok perfetto 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 un po' qua ok sotto lo zegomo anche qua un po' sulla fronte ok adesso lo vado a sfumare prendo un pennello pulito e lo sfumo per bene come ti senti? tutto a posto? benissimo benissimo ok adesso bisogna aspettare che si asciughi ma giusto qualche secondo ed è fatta allora dimmi è in programma di andare a una festa stasera? l'organizzata da scuola che bella idea non mi dire che ci sarà anche un premio per il miglior costume ah si? allora mi dovrò impegnare tantissimo certo darò il massimo darò il massimo ok mi sembra che sia asciutto è asciutto si 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 è asciutta ci siamo per quanto riguarda l'ombretto pensavo di andare a farti uno smocchiai viola cosa ne pensi? ok mi dai carta bianca sei la cliente ideale te lo dico allora 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 prima di tutto ti vado a sfumare questo nero nella parte più esterna della palpebra ok chiudi gli occhi anche di là anche di là ok bellissimo poi vado a prendere questo viola e te lo stendo su tutta la palpebra e poi lo sfumo dove ho messo ora il nero ok ok stupendo per ora è un trucco veramente bello potresti vincere davvero quel premio ok poi pensavo di andare a prendere questo argento e di metterlo nella parte invece più interna per creare un po' di luminosità ecco ok ok ci siamo perfetto ok allora no le ciglia finte direi di non mettertele perché veramente le hai lunghissime di tuo ecco e poi non esageriamo piuttosto ti metto un mascara volumizzante ok così ti intensifico un pochino lo sguardo e poi ecco ecco Grazie a tutti Ok, questo mascara si chiama Ciglia da Fata In questo caso Ciglia da Strega Ok, guarda me Si Ok 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 Perfetto Devo dire che questo make up occhi è veramente stupendo Poi su di te sta benissimo anche il viola Ti sta veramente bene Proseguiamo Allora Si passiamo alle labbra Ne provo qualcuno, d'accordo? Allora vediamo, vediamo, vediamo Dimmi i tuoi compagni da cosa si travestono? Ah, da zombie Da scheletro Ok Da clown No In realtà io ho veramente paura dei clown Quindi No, non mi ci travestirei mai Diciamo che io sono un po' fifona quindi Halloween non è proprio una delle mie feste preferite Mi piace però Anche film horror io non tendo a guardarli ecco preferisco altri generi Tu invece li guardi? Sei coraggiosa Allora Alla fine sono indecisa tra due rossetti Tra due rossi Dimmi cosa ne pensi tu Allora per primo ti faccio vedere questo rosso brillante Bellissimo Altrimenti Mi piaceva tantissimo anche questo rosso metallizzato E' un po' più particolare ecco Allora Che ne pensi? Stupendo vero? Vediamo 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 Quale ti sta meglio Ok Questo Ok La pensiamo allo stesso modo Allora Su chiudi leggermente le labbra Bellissimo Ottima scelta Pensavo Tanto che il tuo costume sarà sicuramente nero Ho indovinato Che ne dici di abbinare il colore del rossetto con lo smalto? Sì Almeno lo riprende un pochino Ah ok Hai a casa delle unghie finte e color rosso da metterti Perfetto Benissimo Ottimo Allora Per quanto riguarda il trucco Direi Direi che nell'insieme ci siamo Però manca qualcosa E' un po' troppo verde Manca qualche dettaglio forse Se vuoi Se approvi Ti posso disegnare qualche ragnatela sulle guance C'è un ragnetto al lato degli occhi Ok Benissimo Prendo l'eyeliner Prender ti posso disegnare una mezzaluna in fronte così ti dà un aspetto ancora più misterioso ok il trucco è decisamente finito stai benissimo, sei una strega perfetta a me piace tantissimo, però state giudicare ti levo le mollettine ok anche di qua ok, perfetto allora in fondo da quella parte trovi uno specchio vai pure a guardarti e poi mi dici se va bene se devo modificare qualcosa ok allora ne sei entusiasta? benissimo, sono contenta veramente anch'io che ti piaccia così tanto dai ti lascia andare che immagino tu abbia veramente tantissimo, tantissimo da fare, giusto? ok fammi sapere se vinci il premio per il miglior costume eh buona serata buona Halloween ciao